I consiglieri del PD di Brindisi continuano a scuotere la testa in segno di disapprovazione rispetto all'assenza dei due assessori, espressione di Fratelli d'Italia, in occasione della riunione dell'Aggiunta, convocata anche per l'approvazione del contributo di 500 euro per sostenere il prossimo Gay Pride pugliese in programma a Lecce. E all'interno del partito di Giorgia Meloni restano le frizioni tenuto conto nella presa di posizione del consigliere Roberto Quarta, il primo in realtà a sollevare il caso dell'assenza del vice sindaco Massimiliano Giano e del titolare della delega ai servizi sociali Antonio Pisanelli. Caso politico? A rispondere lo stesso Giano. Nessuna posizione ideologica, dice a Telerama. Se avessimo voluto dare un messaggio politico avremmo votato contro oppure ci saremmo astenuti. L'Aggiunta era finita e ci siamo allontanati per questioni urgenti, spiega. L'agire della nostra amministrazione è costellata di iniziative, atti e provvedimenti incentrati sull'inclusione, alla lotta della disuguaglianza alle fragilità e alle discriminazioni, alla parità di genere, prosegue il vice sindaco. Basta guardare molti provvedimenti di giunta o l'attività del consorzio per la gestione dei servizi sociali d'ambito. È davvero mortificante assistere ai pervicaci tentativi di inseguire fantasmi da parte del Partito Democratico. Questo dimostra, ove ve ne fosse bisogno, che non hanno altri argomenti, conclude Oggiano. Caso chiuso, difficile fare previsioni, sarà il tempo a dirlo, anche perché a Palazzo di Città resta il nodo del nuovo regolamento della rappresentanza LGBT nella Commissione Pari Opportunità del Comune.